La parola ad Andrea Cappa, che è segretario generale di Alsea, che ha quindi a lei un po' il compito di cominciare a tirare le somme di tutte queste cose che ci siamo raccontati. Sì, a fine giornata, a fine della due giorni, quindi cercherò di essere assolutamente breve, però parto dall'inizio, cioè da quando abbiamo proposto a Cricutility, allo studio Comelli, di dedicare una sezione alla distribuzione urbana, alla logistica urbana. Lo abbiamo fatto non solo perché questo tema interessa molto ad Alsea, ma perché era un anello della catena, dei trasporti, delle spedizioni e della logistica che in questa manifestazione mancava. Quindi siamo andati a colmare una carenza che effettivamente avevamo sentito nelle precedenti edizioni. E devo dire che da un lato la risposta del pubblico, dall'altro il grande interesse da parte mia per le presentazioni che mi hanno preceduto, dove non solo persone come Massimo Marciani, con cui dialoghiamo spesso e ci troviamo bene, ma anche altri, o Giuseppe, insomma, tanti che sono amici, è sempre piacevole sentire ascoltare, ma anche gli altri relatori, devo dire, ho trovato spunti estremamente interessanti. Su questo però consentitemi di fare i complimenti a Giuseppe, perché ho trovato un colpo da maestro parlare delle esperienze di Praga e Berlino, per poi sorvolare per fare l'esempio di Reggio Emilia. Questo l'ho trovato fantastico, veramente. Detto questo, ecco, però perché abbiamo voluto attirare l'attenzione su questo argomento? Perché, ecco, qui noi siamo tra addetti ai lavori, quindi noi sappiamo che cos'è la logistica, sappiamo cos'è la logistica urbana, a che cosa serve e, come diceva anche Massimo, la distribuzione urbana, la logistica è un servizio derivato, no, non è un servizio che nasce di per sé, risponda a una domanda. Eppure noi ci troviamo in un contesto in cui crescono, cresce l'e-commerce, crescono esponenzialmente le consegne, qual è la risposta spesso del consumatore che utilizza questi servizi, piuttosto che a volte della politica, che risponde appunto alle esigenze dei consumatori, la logistica inquina, la logistica deve essere limitata. Ecco, questo è un aspetto che dobbiamo evidenziarlo, cioè la logistica non è né buona né cattiva, è un servizio, è un servizio a favore dei cittadini e come tale cerca di dare le risposte e le risposte che chiedono i consumatori. Allora, se il consumatore richiede una consegna in mezz'ora, se richiede una consegna che sia gratis, di gratis non c'è nulla al mondo, qua di gratis io conosco poche cose, tutto costa e da un punto di vista ambientale quando si parla di queste cose il costo è anche superiore. Ecco, allora, se queste sono le domande dei consumatori, la logistica cerca di dare una risposta, ma ovviamente non perché abbia una etica particolare, ma semplicemente perché deve rispondere al bisogno dei consumatori che dall'altro rato giustamente richiedono sempre una maggiore sostenibilità, cerca di dare le risposte anche sotto questo profilo. E qua mi ha sorpreso, e riprendo una delle presentazioni dei relatori che mi ha preceduto, leggere che i paesi che hanno le più alte percentuali di resi sono i paesi del Nord Europa, dalla Germania, la Svizzera, cioè quei paesi che noi ci aspettiamo che proprio perché hanno una grandissima attenzione al green, alla sostenibilità, invece hanno, dimostrano nella pratica un'attenzione che è limitata, perché quando fai queste cose dovresti essere consapevole che provocano un numero maggiore di consegno, un numero maggiore di ritiri. Lo stesso quando tu pensi, prendo 20 articoli perché mi misuro, perché scelgo il migliore, tanto la consegna è gratis, no non è gratis, non è gratis perché genera congestione, non è gratis perché genera inquinamento. Quindi lo diceva prima anche Andrea Rizzi, bisogna fare cultura, bisogna fare informazione perché queste cose, questi comportamenti, poi portano al risultato che dicono la logistica inquina, la logistica, no non è la logistica, è il comportamento delle persone. E visto che questi aspetti devono essere, devono renderci tutti consapevoli, noi che siamo addetti ai lavori ma anche ai consumatori, è evidente che su questo bisogna parlarne e quindi occasioni come queste devono avvenire sempre più spesso. E qua consentimi anche un'altra battuta, qui siamo in casa degli amici di Assolombarda, qualche giorno fa hanno fatto una manifestazione molto bella che era l'Assolombarda, i quality di Assolombarda, gli award di Assolombarda, ovvero la premiazione delle imprese di Assolombarda. E questo premio il presidente Spada lo ha voluto fortemente per l'orgoglio dell'imprenditoria, dell'industria, perché troppo spesso si sente dire che l'industria quasi è un male, no? Allora questo orgoglio che il presidente Spada ha voluto rilanciare per il mondo dell'industria, io lo muto per l'industria della logistica, no? Per l'impresa della logistica non è un'industria, è un servizio. E lo muto perché anche noi dobbiamo esserne orgogliosi e dobbiamo dimostrare che il nostro servizio è un servizio essenziale. Mi pare Massimo prima quando ne parlava faceva il paragone col servizio pubblico locale per il trasporto a passeggeri, il trasporto a merci, conto terzi, altro non è che il servizio pubblico per le merci. Cioè questo deve essere un concetto che noi dovremmo praticamente dirlo un po' come le formule antitrust per le associazioni all'inizio di ogni relazione. Ecco, quindi questo per me è l'aspetto essenziale, così come un ultimo accenno riguarda la pianificazione delle città. Questo ne ho parlato spesso con Massimo, un tema che mi è molto caro. Cioè vengono pianificate, ormai non le città, le nostre città sono città storiche, evidentemente hanno grosse difficoltà, però qui a Milano abbiamo esempi importanti di riqualificazione urbana, di creazione quasi di nuovi quartieri. Ebbene, forse pensano ai parcheggi per le macchine, nessuno pensa ai parcheggi per le consegne. Allora, e non ci sono i posti per i furgoni, per le consegne delle merci. Allora, però tutti vogliono avere la consegna a casa. Allora, netto del fatto che probabilmente bisogna iniziare a ragionare, e ce lo ha dimostrato anche molto bene Arianna Seghezzi, che bisogna iniziare a pensare ad utilizzare i locker, ad utilizzare modalità diverse di consegne. Poi si usa tutto, perché sicuramente chi è anziano, chi ha delle disabilità, magari la consegna a casa è un servizio essenziale. Però bisogna iniziare a pensare anche a queste attività. E per farlo bisogna, come diceva prima Andrea Rizzi, che il pubblico e il privato dialoghino, che ragionino in un'ottica sistemica, come spesso accapita, perché lo troviamo come esempio in diverse città, ma che qualche volta invece questo non avviene con delle fughe in avanti. Ecco, questo secondo me è un po' il messaggio che vi volevo trasferire, anche per spiegarvi, perché abbiamo chiesto di dedicare una sessione all'interno di questa manifestazione. Grazie. 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 Allora, secondo me...